Ora che stai pensando, vedo una chieda di un po' Garbato, modesto, semplice, preparato. Renzo Rubino, dopo il grande successo al Festival di Sanremo, torna oggi per la prima volta nella sua Martina Franca. Ho già fatto il giro di tutti i parenti, perché non si sa per quale motivo noi del sud, soprattutto pugliesi, siamo pieni di parenti, no? E quindi questa cosa mi ha occupato già mezza giornata. Facciamo molti figli. Facciamo molti figli, ma siamo tutti belli, sorridenti. Ammirato e premiato dagli italiani, soprattutto per la sua grande preparazione e professionalità, oltre che per la naturale dote vocale, Rubino sa bene che nulla si può improvvisare. L'importante è che l'approccio non sia mai approssimativo, ma sia giusto, equilibrato e fatto in maniera decorosa. Felice di essere in Puglia nella sua Martina Franca in concerto tra dieci giorni al Teatro Verdi e poi il 2 maggio al Petruzzelli di Bari. Abbiamo preparato uno spettacolo incredibile dal punto di vista visivo, scenico e dell'ascolto. Qui ci saranno in Puglia due tappe importantissime, quella del Teatro Verdi di Martina Franca, che è il Teatro di Casa e poi il Teatro Petruzzelli di Bari, che è ancora un altro sogno che si realizza.